Buon pomeriggio a tutte, signore nostre, benvenute all'interno di questa nuovissima diretta firmata Fespa. Oggi sono in compagnia della nostra bellissima e bravissima coach Renata ed insieme a lei andremo ad analizzare, vi porteremo dentro i risultati di una nostra paziente che per comodità didattica chiameremo Francesca. Quindi ciao Renata, benvenuta in questa diretta. Ciao Peita, grazie mille, è un piacere essere qui. Allora, io direi che possiamo iniziare subito questa diretta. Prima mi presento molto velocemente per tutte le donne che non mi conoscono. Io sono la dottoressa Saccone, creatrice del Metodo Fespa e appunto oggi siamo qui insieme alla nostra coach, super coach Renata per analizzare i risultati di questa nostra paziente. Ma in particolare non solo parleremo dei risultati della nostra Francesca a nome di fantasia ma insieme appunto a Renata vedremo anche quali sono stati i punti su cui abbiamo lavorato. In particolare due punti cruciali che vengono spesso, per non dire sempre, messi da parte quando si tratta di diete. Quindi, che cos'è dentro i progressi? Dentro i progressi è la nostra nuova rubrica in casa Fespa e all'interno di questa nuova rubrica che cosa facciamo? Condividiamo con voi quelli che sono i risultati di alcune delle nostre pazienti Fespa. È il nostro modo per celebrare insieme a voi le trasformazioni e le vittorie di chi ha intrapreso questo viaggio insieme a noi. Oh, ecco qui la mia guerriera vincente. Allora, guerriera all'ascurto. Analizziamo la storia di questa guerriera vincente. Parliamo subito di quelli che sono i risultati da lei ottenuti. Questa ragazza ha cominciato a settembre, quindi sono avversati all'incirca sei mesi e dall'inizio del suo percorso ha perso ben 9,5 kg e la bellezza di 41 cm da tutto il corpo. Passiamo ad analizzare soprattutto la trasformazione fisica di questa paziente perché vorrei far capire alle signore che ci stanno ascoltando che con il metodo Fespa non si fa la corsa o la maratona a perdere vertiginosamente chili sulla bilancia senza tener conto di quello che è il benessere della persona ma si agisce su ciò che è davvero importante quindi subendere il grasso che si cumula durante la vita quando molte azioni sbagliate prendono le sembianze di abitudine e che la dieta non aiuta a risolvere migliorando quella che è la forma fisica della persona. Quindi questa paziente in particolare ha perso diversi centimetri e ha notevolmente rimodellato il suo corpo. Il miglioramento più evidente che proprio si vede ad occhio nudo lo notiamo proprio nella parte di sotto del corpo quindi dalla parte dei glute, delle gambe che sono per questa signora il punto critico. Notiamo come si è staccato quello che è l'interno coscia un risultato davvero fantastico che donne che prima di conoscerci si allenavano tre ore al giorno e tutti i giorni in palestra e non hanno raggiunto questi risultati. Abbiamo un interno coscia totalmente diviso pensate che dei 41 centimetri 10 sono stati persi solo alle cosce ed è notevolmente migliorata anche nella foto di spalle quindi se vediamo da dietro la forma del gluteo esatto se andiamo avanti con le foto esatto è notevolmente migliorata la forma del gluteo che era un po' scesa era stata persa un po' con quella che è la tonicità del gluteo invece adesso lei sta lavorando per renderlo sempre più armonico ovviamente si vedono anche miglioramenti nella zona della vita e dei cianchi non lo chiamo come i rotoletti si sono belli e compattati e anche lateralmente abbiamo un enorme progresso a livello proprio di sgonfiore addominale vedete questa donna notevolmente ha piattito quello che è l'addome e anche lateralmente si vede il gluteo la forma del gluteo che si è alzata quindi abbiamo un corpo tonico stiamo lavorando su un corpo tonico a 360 gradi allora andiamo avanti raccontando la storia di questa paziente quindi vi faccio un po' una panoramica Francesca è una donna che proprio come sono certa molti di voi ha alle spalle un passato storico di diete molto importante diete che gli hanno lasciato degli strascichi in un certo senso quindi fatte di privazioni diete fatte di privazioni limitazioni e vi rendete conto signore mie che noi donne oggi la donna moderna che purtroppo deve lavorare deve gestire tante situazioni insomma è sottoposta di uno stress continuo quindi vi rendete conto che aggiungere quello che è lo stress deve essere anche legato all'alimentazione per come la prospettiva che vi dà la dieta diventa proprio una cosa esasperante e quell'esasperazione fa sì che tutta una serie di tasselli legati alla parte inconscia che ci guida poi ognuno di voi di noi prendano il sopravvento quindi in un certo senso ci si abitua a quello che è l'autosabotaggio quindi non ho tempo di fare quello non ho voglia di fare quell'altro non riesco a fare quell'altro insomma sì ci creiamo delle volte degli alibi ok per non agire al meglio questa donna diciamo lavora fino a 12 ore al giorno che è quello che è il tipo di lavoro che fa quindi all'inizio del nostro percorso insieme abbiamo lavorato proprio su strategie pratiche per far sì di trovare quelle chiavi giuste che potessero far sì che il metodo si adattava a quello che è lo stile di vita perché signorime noi questo facciamo ok noi non siamo l'ennesima dietina è vero che si può dimagrire mangiando tutte raggiungere i risultati che ha raggiunto Francesca con pochi allenamenti a settimana mangiando la pizza mangiando il carboidrato e anche magari esagerando qualche volta sarà capita da tutte voi quella settimana dove ci sono tre compleanni insieme ok il nostro scopo la missione di Fespa è aiutarvi a risolvere questo tipo di problematiche perché dietro al sovrappeso non c'è mai il singolo alimento per cui tu donna che ci stai ascoltando ti devi privare ok ma ci sono delle abitudini sbagliate che vengono messi in atto tra cui non sapersi organizzate questa è una tematica che noi coach lavoriamo tanto con le pazienti insegniamo però le donne organizzarsi il tempo pianificare in anticipo le proprie mosse insomma prendersi cura di se stesse anche se si lavora 12 ore al giorno per esempio ok Francesca non riusciva a prendersi cura di sé e abbiamo lavorato su questa situazione iniziamo esplorando una delle tecniche fondamentali che ha rivoluzionato il percorso di dimagrimento della nostra Francesca la strategia in questione è l'organizzazione un concetto apparentemente semplice chi di voi non è organizzata nella vita di tutti i giorni sono certa che tutte le donne che ci stanno ascoltando si organizzano al meglio nel lavoro si organizzano al meglio nella famiglia ma non si organizzano al meglio per se stesse non si trovano il tempo per curare il proprio benessere la responsabilità che ognuno di noi ha verso se stesse per curare il nostro corpo che poi sarà la nostra casa per sempre quindi un concetto dicevo apparentemente semplice è anche profondamente efficace nella battaglia contro il sovrappeso soprattutto per chi si trova costantemente a lottare con l'orologio che scorre il tempo che scorre inesorabilmente quindi quando parliamo di organizzazione in questo contesto specifico ci riferiamo alla capacità di pianificare in anticipo i propri pasti ma cosa significa realmente guerrire che si dà l'ascolto significa dedicare un momento un minuto in 24 ore nella propria settimana per decidere quali saranno i passi e gli spuntivi dei giorni a seguire allora questa planificazione può spaventare ma richiede in realtà 5 minuti di orologio ok? questo approccio ha molti benefici benefici innanzitutto elimina delle decisioni fatte all'ultimo minuto che spesso portano a mangiare senza consapevolezza partire dall'organizzazione è un tassello che apre moltiplici inventagli di benefici 1. mi posso concedere un dolce anche tutti i giorni perché se io pianifico in anticipo le mie mosse e sono una furbacchiona mi mangio anche un dolcetto tutti i giorni 2. risparmio tempo e soldi per la spesa perché effettivamente imparo ciò di cui ho più bisogno vado una volta a fare la spesa mi procuro ciò di cui ho bisogno sto a posto metodo FESPA ci sono anche tante ricettine pratiche a cui attingere dal nostro strumento di ausilio che in un attimo tu fai una ricetta che concilia un po' tutti i gusti di tutta la famiglia bambini, figli, nonne, zie per dire ok? noi vi insegniamo a fare ciò che più vi piace perché diciamoci la verità ciò che della vita vi fa fallire soprattutto è l'essere costretta a fare ciò che non mi piacerebbe fare io mi anzo proprio con la voglia di un risotto ai frutti di mare ma ahimè il foglietto mi dice che mi devo fare il risotto anche con il petto di pollo questo ovviamente erano i sostenibili mentre invece il metodo FESPA e i goccio FESPA noi goccio FESPA aiutiamo e vi chiediamo cosa è che vi piace di più? ti piace dolce? ti piace patatine? qual è il comfort food che più ti piace? questo è questo benissimo capiamo come elaborare in merito quello che è lo stile di vita gli orari figli, la famiglia eccetera eccetera delle tecniche che possano unire gusto e a raggiungimento dell'obiettivo no? le due cose sono di pari passo questa organizzazione preliminare ha eliminato lo stress della scelta dei passi giornalieri che mangio oggi? che faccio oggi? io ho mangiato la pizza e oggi oddio come mi muovo? esatto quando ti vive nel metodo FESPA non ti vive più queste patuglie ok? ma god di quella che è una flessibilità da primo tassello del metodo FESPA un equilibrio secondo tassello quindi decido di mangi dolce però a pranzo mangio un'altra cosa ok? tutto questo vi rende sostenibile un processo di dimagrimento che sicuramente può comportare delle piccole difficoltà contemporaneamente cambia in meglio quello che è l'approccio mentale quindi vedete come i tasselli nell'insieme no? aiutano una donna a raggiungere un benessere psicofisico che oggi vi porta a raggiungere l'obiettivo ma domani signore mio vi porta pure a mantenerlo è bassa questi effetti io ho quelli che salgono e quelli che scendono eccetera eccetera dieci minuti al giorno ci si organizza e stiamo a posto ci godiamo il viaggio come dico sempre no? alle mie pazienti quindi questa organizzazione preliminare ha eliminato lo stress dalla scelta dei passi giornalieri permettendole di concentrarsi su altri aspetti della sua vita senza sacrificare la qualità della sua alimentazione esatto esatto quindi il primo il primo grande tra virgolette ostacolo che abbiamo superato con la nostra Francesca è stato proprio far sì che il metodo si adattassero alle sue al suo stile di vita la prima strategia che ha aiutato la nostra Francesca è stata proprio capire il problema alla base come dicevi tu Renata all'inizio il sovrappeso non è mai legato ad un piatto di pasta ad una pizza ad un dolce il sovrappeso è legato a diversi problemi ci sono tante cause dietro il sovrappeso e nel caso di questa paziente una era la gestione del tempo quindi non era in grado di gestire correttamente il suo tempo e la seconda l'andiamo a svelare tra poco sempre nel corso di questa diretta quindi in questa prima parte abbiamo capito che è importante è importante imparare ad organizzarsi proprio come siete organizzate come siete organizzate signore nostre nella vostra vita privata quando dovete andarvi a fare le unghie il capello i piedi la ceretta eccetera eccetera anche per quanto riguarda prendersi cura del proprio aspetto esteriore e quant'altro c'è bisogno di un minimo di organizzazione organizzazione che ruba come abbiamo detto due minuti cinque minuti dieci minuti esagerando quindi adesso questo ovviamente come diceva la nostra Renata questo ha aiutato la nostra Francesca ad evitare di buttarsi magari sulla prima opzione alimentare disponibile io scommetto che tante donne che ci stanno ascoltando in questo momento tornano magari tardi da lavoro è proprio perché non sono organizzate sono prese dalla gestione di tante cose nell'arco della giornata appena tornano da lavoro combinano i disastri quindi aprono il frigo e mangiano la qualunque un po' mangiano in piedi un po' mangiano mentre cucinano poi si siedono mangiano poi mangiano anche dopo insomma combinano dei materi perché? perché non non c'è un equilibrio alimentare ma anche perché c'è una disorganizzazione che vi porta poi spinte dalla fame a buttarvi sulla prima opzione che capita e combinare dei macelli assurdi quindi mi raccomando prendete come oro colato questa prima strategia questo primo consiglio suggeritoci suggerito insomma dalla nostra Renata adesso andiamo a vedere un assaggio un esempio di alcune delle sue giornate alimentari tipiche quindi alcune giornate che hanno permesso a Francesca di raggiungere questi primi risultati perché ce ne saranno altri sicuramente arriveremo a risultati ancora migliori di questi qui che vediamo nelle foto che sono già spettacolari ma arriverà ancora di meglio allora questi sono degli esempi ovviamente come potete vedere non ci sono le porzioni in quanto la porzione è soggettiva quindi non vedete i grammi perché ovviamente è un percorso come diciamo sempre tra l'altro è uno anche dei tasselli di Fespa la P di personalizzazione quindi nel caso di questa paziente abbiamo quattro pasti quindi abbiamo la colazione abbiamo il pranzo abbiamo la cena e abbiamo lo spuntino ma ovviamente il numero di pasti non è importante quindi si possono fare due pasti al giorno se ne possono fare tre se ne possono fare quattro se ne può fare uno se ne possono fare cinque non ci interessa del numero dei pasti è assolutamente soggettivo in base anche al senso di fame nel caso di Francesca abbiamo colazione pane con salmone e avocado lei va molto per le colazioni salate pranzo goulash di manzo con patate a cena abbiamo un panino con uova salmone e avocado quindi abbiamo il salmone sia a colazione che a cena probabilmente le piace molto questo accostamento di salmone e avocado che tra l'altro è buonissimo se aggiungiamo anche le uova e come spuntino abbiamo uno yogurt greco al caffè giornata 2 colazione abbiamo un panino con della marmellata quindi qui abbiamo una colazione dolce a pranzo abbiamo delle cosce di pollo con patate e insalata russa notiamo anche come le piacciono le patate e il pane a questa paziente che mangia ma in due giorni che ho preso per fare questa diretta abbiamo patate e pane cena abbiamo pane con bresaola e dell'insalata russa e per spuntino abbiamo delle clementine attenzione questi pasti quindi il pranzo e la cena sono accompagnati anche da verdura non la vediamo qui ma è presente anche la verdura proprio perché per creare un pasto che sia completo bilanciato e saziante abbiamo bisogno anche delle verdure l'insalata russa possiamo definirla più o meno un contorno di verdure più o meno non proprio però piccola parentesi piccola parentesi perdoni Federica se in alcuni giorni la donna fa la colazione salata è perché insieme abbiamo individuato delle strategie per via del fatto che c'era un enorme divario tra ora di colazione e ora di pranzo quindi nel mezzo precedentemente c'era quella fame fu distributore patatine tuc magari alimenta ad alta densità calorica piccola strategia colazione salata mi sazia fino all'ora di pranzo idrato nel frattempo svolgo il mio lavoro con energie e vigure perché non sto facendo la fame con le due fettive di fette biscottate con il velo attenzione al velo di marmellaz ok quindi per farvi capire come questa ragazza questa signora Francesca è riuscita a individuare delle colazioni giuste per alcuni giorni in cui ha un determinato tipo di lavoro andiamo alla giornata numero 3 la giornata numero 3 libertà alimentare del metodo Fespa colazione con pane prosciutto e formaggio pranzo un bel pasticcio alla bolognese a cena una cena giapponese alias cinese più giapponese vermicelli di soia con gamberetti e ravioli di carne e per spuntino uno yogurt greco quindi come potete vedere si spazia molto con gli alimenti ma soprattutto i carboidrati sono sempre presenti questo perché come dicevamo prima non è il singolo non è il piatto di pasta che fa ingrassare sono i comportamenti alimentari disfunzionali che fanno ingrassare piccola parentesi volevo fare sempre tra i benefici dell'organizzazione è anche evitare lo spreco alimentare perché se io mi faccio un piatto di pasta alla bolognese il giorno prima non me lo mangio tutto o magari ne ho cotto troppo lo rifaccio a pasticcio il giorno dopo lo metto in una teglia e ci metto un po' di pezzettino di cosa c'è nel frigo da togliere io mi sono fatto un pasticcio mi sono fatto un branso sto a posto ok quindi piccola parentesi tra i benefici anche di avere un'educazione alimentare una coscienza e consapevolezza alimentare oltre che un aiuto che guida in ogni passo la paziente alla sua alberta alimentare che va sicuramente costruita giorno dopo giorno con serenità passiamo alla giornata di oggi di questa la nostra signora Francesca allora colazione completamente diversa abbiamo un kiwi abbiamo pane di segale con burro e tacchino ok a pranzo abbiamo un couscous con petto di pollo verdure condimento a cena abbiamo minestrone pespudino abbiamo ben quattro biscottini con mandorle e fiocchi di amina ottimo ero mutata ottimo che bella giornata bellissima complimenti alla nostra Francesca ma infatti prima di andare avanti e svelarvi il secondo tassello su cui abbiamo lavorato con la nostra Francesca rimettiamo un po' le sue foto perché non avete fatto i complimenti a Francesca che è un nome di pesca sia che ha perso 9,5 kg e 41 cm da tutto il corpo bravissima fatele tutti i complimenti per questi risultati meravigliosi tra l'altro secondo voi quanti anni ha questa paziente? Renata prima la chiamava ragazza ed effettivamente ha un fisico da ragazza ma quanti anni ha secondo voi? una cinquantina diciamo così e non ha ha un fisico cioè i risultati sono bellissimi lei arriverà in estate ad avere un fisico di una trentenne per me già ce l'ha perché rispetto ad alcune donne che arrivano a 50 anni con 50 kg in più sta benissimo benissimo allora torniamo a noi andiamo a vedere il secondo segreto di questa nostra paziente perché c'è un altro segreto un altro scoglio che abbiamo superato insieme grazie al supporto della nostra supercoce Renata perché infatti il viaggio verso un fisico magro tonico ed armonioso non si ferma solo a quella che è l'organizzazione dei pasti alla pianificazione dell'attività fisica abbiamo detto che lei si allena due volte a settimana comodamente da casa ma abbiamo dedicato anche una particolare attenzione ad uno degli aspetti forse più cruciali e spesso sottovalutato l'approccio mentale come dicevamo prima alla base c'è una persona che ha 30 40 20 kg in più 15 kg in più 50 kg in più 60 kg in più il problema non è non risiede banalmente nel mangiare troppo ma risiede piuttosto nell'approccio mentale nel come quella persona si approccia al cibo perché una persona per arrivare ad avere 50 kg in più non è il caso di questa nostra paziente ok lei aveva a una 12 13 kg in più ok una quindicina massimo di kg in più aveva dall'inizio del percorso ma chi arriva ad avere 20 30 40 50 kg in più non è banalmente mangio troppo ma è come mi approccio al cibo perché mi sono ridotta a questo quindi ad avere questi kg in più perché ho subito un trauma che non sono riuscita a superare perché ho degli eventi passati che mi portano a sfogare nel cibo non so gestire le mie emozioni quindi non so gestire lo stress la rabbia sono tante le motivazioni ma sicuro non è il banale mangiare troppo e quindi è importante capire cosa c'è dietro e quindi guardare l'approccio mentale nel caso di questa paziente Francesca uno dei suoi scogli uno dei suoi problemi quando ha iniziato il percorso era anche quello di non avere un obiettivo chiaro io sono sicura che molte di voi che ci staranno ascoltando avranno come obiettivo voglio dimagrire ma voglio dimagrire non significa niente non è un obiettivo chiaro per la nostra mente questa constatazione ci porta a riflettere su un principio fondamentale della psicologia umana la nostra mente necessita di chiarezza per funzionare al meglio e gli obiettivi non sono semplicemente dei desideri o dei sogni sono le stelle polari che guidano il nostro viaggio offrendoci direzione e motivazione quindi quando noi abbiamo degli obiettivi che siano chiari ok quegli obiettivi ci guideranno poi verso i nostri obiettivi saranno appunto le nostre stelle polari che ci guideranno verso la meta per questo enfatizzare l'importanza di stabilire obiettivi ben definiti e raggiungibili è stato un punto chiave nel nostro percorso con Francesca spesso il primo passo verso la realizzazione di qualsiasi traguardo è capire esattamente cosa vogliamo conseguire questo significa andare ben oltre come vi dicevo prima banalmente voglio perdere peso voglio essere in forma non significa niente queste due frasi non significano niente per la nostra testa per la nostra mente perché non sono frasi chiare quindi dobbiamo chiederci ed è il lavoro tra virgolette che ha fatto la nostra Francesca affinché questi chili che lei ha perso non li riprenda anche una volta finito il percorso quanto peso voglio perdere in quanto tempo quali sono le abitudini che devo andare a cambiare per raggiungere questo obiettivo quindi gli obiettivi devono essere smart specifici misurabili realizzabili rilevanti e temporizzati cioè devono avere una scadenza una piccola parte quindi del lavoro che abbiamo fatto con la nostra Francesca che vi vado a rimettere risiede proprio in queste due cose quindi organizzazione del tempo gestione del tempo in base al suo stile di vita e lavorare sull'approccio mentale nel suo caso perché approccio mentale è un macro argomento che racchiude tutta una serie di varie varie casistiche nel suo caso abbiamo lavorato sul fissare un obiettivo un obiettivo da raggiungere e poi le è semplicemente bastato seguire la strada che è stata tracciata per lei tutto qui semplicemente seguire le direttive da parte nostra e ha raggiunto gli obiettivi esatto un piccola cosa volevo dire che anche il discorso di cominciare a pianificare è una conseguenza di un obiettivo che ci si è posto ok qual è il mio obiettivo che noi scopriamo sempre non essere mai uno ok l'obiettivo non è voglio perdere quei chili è anche quello ma l'obiettivo reale di questa donna è salute più sicurezza in me stessa no quindi si passa si capisce bene si analizza bene quello che è l'anamnesi ok che fa la paziente noi che abbiamo un'esperienza riusciamo a leggere fra le ricche quindi sappiamo quelli che sono i problemi dall'altro lato ci si fissa degli obiettivi che si sono anche perdere i chili in x tempo assolutamente ma sono anche o essere felice voglio godermi il cibo voglio stare bene con me stessa voglio essere più sicura di me c'è chi scrive voglio rinascere c'è chi scrive voglio rivivere c'è chi dice finalmente possa avere un rapporto migliore con il mio marito da là si scanaglia l'obiettivo perciò come faccio ad arrivare io a questo obiettivo posso cominciare dalla pianificazione la pianificazione come dicevamo prima ci porta ad un ventaglio di benefici quel ventaglio di benefici ci porta a sbloccare nuovi obiettivi quindi magari se la paziente è un po' pigra sull'allenamento si fissa un obiettivo sull'incrementare questa parte ok si arriva sempre più lontano ci si fissa altri nuovi obiettivi questo è il bello sicuramente del percorso e deriva sicuramente da quello che ci fonda nella nostra testa noi alla fine siamo ciò che pensiamo e noi coach testa aiutiamo a pensare meglio di voi stesse e anche a farvi capire che a volte dovete ricordarvi di più di essere brave posso forse mi riferirca le clienti essere brave festeggiare i vostri progressi grandi piccoli che siano già pianificarsi una giornata e tenere di fede è un obiettivo grande raggiunto in un giorno che contribuisce a quel macro obiettivo di perdere 20 30 10 1 2 chili esatto esatto è proprio questo poi che rende possibile il raggiungimento di determinati obiettivi scomporli questi obiettivi non partire con voglio perdere 20 chili è il macro obiettivo come il nostro il macro obiettivo della nostra Francesca era aspetta che lo andiamo a recuperare perché non me lo ricordo dimagrire 15 chili il macro obiettivo era dimagrire 15 chili quando ha intrapreso il percorso scomponendo questo obiettivo e grazie al supporto perché lo ripeto dietro il sovrappeso e l'obesità ci sono motivi psicologici quindi il supporto è fondamentale ecco perché da sole o con le diete non si riesce perché non c'è supporto punto o con le pillole peggio ancora tiè prenditi la pillola e che fa la pillola va a lavorare sul mio senso di fame e stazietà mi insegna quando devo mangiare quando ho realmente fame mi risolve il problema che ho con la gestione del tempo no quindi non funziona e non voglio parlare male non voglio offendere chi propone pilloline o peggio ancora sciroppini goccine tutte queste cose qua non voglio parlare male ma è oggettivo sono anni che lavoriamo a contatto con donne che devono perdere dai 5 fino ai 50 kg e vi conosciamo come le nostre tasche in primis perché all'interno di Fespa ci siamo passate io ho combattuto contro il binge eating quindi so che cosa significa avere un rapporto malsano con il cibo la coach Renata ha combattuto con il sovrappeso quindi sa che cosa significa seguire la dieta non ottenere risultati e sentirsi frustrata per questo quindi sappiamo le dinamiche che ci sono alla base ed è proprio per questo che possiamo vantare i risultati che vedete quotidianamente sui nostri social io direi che possiamo concludere qui questa questa diretta con i risultati della nostra bellissima Francesca eccola qui stupenda quindi Renata lascio chiudere a te questa diretta allora vuoi dire vi lascio con questo prima e durante di questa nostra paziente vi raccomando se l'immagine di voi che vedete nello specchio non vi piace agite al meglio e se fino adesso avete fatto sempre la stessa cosa avete avuto sempre lo stesso risultato cambiate cambiate pagina portate pagina fate ciò che è giusto per il vostro benessere psicofisico il metodo FESPA soddisfa questa esigenza siamo fieri di quello che facciamo c'è un'etica alla base di questo lavoro e in primis io come dite lo faccio per passione quindi sapere di avere un ruolo all'interno della vita di una donna in senso positivo è qualcosa che mi gratifica molto quindi fate azione prenotate le vostre consulenze loro vi diranno tutti i nostri esperti FESPA non abbiate paure di fare domande di esprimere la vostra idea dietro le quinte c'è un mondo di libertà che vi aspetta esatto grazie Renata grazie a tutte per averci seguito fin qui noi ci vediamo nella prossima diretta che sarà alle 5 e mezza ciao a tutte